Dopo la riattivazione del volo Foggia-Torino arrivano nuove richieste di tratte Treviso, Olbi o Catania. Sono alcune delle ipotesi ventilate, alcune delle tratte proposte alla LumiWings, la compagnia unica aerea che gestisce i voli dall'aeroporto Foggiano, ad Aeroporti di Puglia e alla Regione Puglia da parte del Comitato Vola Ginolisa, che traccia anche un nuovo bilancio. Nel mese di marzo, secondo i dati ufficiali che interessano i movimenti e i passeggeri dell'aeroporto Ginolisa, così come pubblicati da Asso Aeroporti, sul Ginolisa ci sono stati 83 movimenti, di cui 62 voli di aviazione commerciale e 21 di aviazione generale. Il primo dato oggettivo che emerge è che rispetto ai movimenti commerciali, sempre di marzo ma del 2023, c'è stato un incremento importante del 10,7%. Rispetto invece al mese più vicino di febbraio 2024, la crescita è stata solo dell'8,06%. Per quanto riguarda il dato passeggeri, nel marzo 2024 hanno volato dal Ginolisa, con i voli commerciali, oltre 2760 persone, riportando un aumento del 18,8% rispetto al mese di marzo del 2023. L'aumento rispetto al mese di febbraio 2024 è stato invece del 21,9%. I dati dei numeri dei passeggeri in media è stato di 40,5 passeggeri per volo, con un indice di riempimento del 37% circa. Quindi, questi numeri, dicono dal Comitato Volagino-Lisa, fanno intendere chiaramente che l'aeroporto di Foggia ha risposto discretamente per il mese di marzo, registrando quel risveglio primaverile, che in maniera diversamente proporzionale hanno tutti gli aeroporti italiani rispetto ai mesi invernali di gennaio e febbraio. Incoraggianti, dunque, sono i numeri tanto che arrivano le nuove proposte di volo, soprattutto dopo la riattivazione del volo per Torino, che potrebbe far salire il bilancio del prossimo mese di maggio, periodo in cui dovrebbe già conoscersi l'operativo definitivo in vista della stagione estiva. Per questo, dal Comitato Volagino-Lisa, sperano che la compagnia aerea, aeroporti di Puglia e la regione Puglia possano incrementare altri voli con altre destinazioni per città importanti italiane, come per esempio Catania, già attivata lo scorso anno, Palermo, in sostituzione di Catania, mettendo in collegamento così la Puglia con la Sicilia, ma anche sul tavolo arriva la proposta per Olbia o Cagliari, per un collegamento mai attivato prima di adesso tra Puglia e Sardegna. Anche l'aeroporto di Venezio-Treviso, in cambio di Verona, che invece è stato il volo dello scorso anno, potrebbe essere un collegamento interessante estivo, visto che attualmente il nord-est non è molto servito dalla Puglia. Restiamo fiduciosi, dicono dal Comitato Volagino-Lisa, che la voce di questo comitato possa essere ascoltata e che vengano messi in atto quei necessari ed opportuni miglioramenti, soprattutto in ottica di incremento dei passeggeri per il turismo estivo, con un beneficio e un ritorno economico per tutto il territorio.